Un altro valore importantissimo è il puntino. Il puntino a destra della nota ha una funzione molto importante. Aumenta di metà il valore della nota stessa. La metà, tanto per fare un esempio, vale due quarti. Cioè per fare una metà occorrono due di questi qua, due quarti. Il puntino vale da solo metà di questa metà e perciò vale un quarto in questo esempio che va ad aggiungersi al valore della metà che vale il punto e due quarti. Quindi due quarti più un altro quarto. La metà col puntino vale tre quarti. La metà senza puntino vale due quarti. Un altro esempio. Un ottavo, un ottavo da solo vale due sedicesimi ma col puntino ne vale tre perché il puntino da solo vale metà nota che va ad aggiungersi agli altri due sedicesimi. Grazie. 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 Grazie.